In questa puntata, rigassificatore, respinto l'ordine del giorno del Movimento 5 Stelle. Il Consiglio regionale della Toscana respinge a maggioranza un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle, che intendeva impegnare il Presidente e la Giunta regionale a interrompere qualsiasi atto o fatto volto alla realizzazione del rigassificatore a Piombino. Ivi incluse le opere prodromiche ed accessorie indissolubilmente connesse allo stesso, attendendo l'insediamento del nuovo governo e a richiedere nelle opportune sedi una valutazione per un'ubicazione alternativa all'opera. Vedere che ancora oggi, dopo che gli italiani pagano delle bollette mostruose, dopo che le imprese sono condizionate nel loro futuro dal gas, dopo che l'interesse nazionale dichiarato e su cui tutti sono d'accordo è quello di diminuire la nostra dipendenza dalla Russia, e che ci siano ancora queste forze politiche che votano per interrompere l'iter, insomma si prenderanno le loro responsabilità di fronte agli italiani, ai cittadini, alle imprese. Io ho voluto ribadire che sto facendo quello che mi dice la legge come commissario e sono fino al 27 ottobre data di scadenza per poter rilasciare l'autorizzazione, impegnato a acquisire tutte le osservazioni, i pareri, per rendere l'autorizzazione il più possibile perfetta e il più possibile vicina alle corrispondenze della gente. Accanto all'autorizzare il rigassificatore, presumibilmente, c'è anche il memorandum Piombino, ovvero le opere che saranno fatte a beneficio della comunità di Piombino, e mi muoverò su questa strada. Io sono stato il primo in aula a intervenire per respingere questo atto provocatorio, a mio avviso, del 5 Stelle, dove la destra si è accodata, perché è opportuno che il Consiglio regionale si pronunci, che dia sostegno e forza al nostro Presidente Eugenio Gianni. A me fa piacere che Gianni è intervenuto in aula, ha detto quello che di fatto ho detto io, le leggi si rispettano, si procede nella conferenza dei servizi, si possono dare delle condizioni, ma si va avanti sull'intervento del rigassificatore, perché è un intervento che serve al nostro Paese, perché ci sono le condizioni per realizzarlo, perché ci sono oggi i tempi per realizzarlo, e a me fa piacere che poi anche il Partito Democratico abbia discusso al proprio interno, magari, ma poi ha deciso di votare così come ha votato Italia Viva, così come ha chiesto il Presidente Gianni, e credo che la nostra presenza in Consiglio regionale sia determinante. determinante. Oggi lo abbiamo dimostrato con la fermezza delle nostre posizioni, con il nostro convincimento e con la nostra coerenza. Quindi oggi la maggioranza tiene, questa è la notizia che magari non sempre i giornalisti vogliono sentirsi dire, ma la maggioranza che tiene su un atto così importante, invece, è la vera notizia che oggi il Consiglio regionale dà pieno mandato al nostro Governatore per procedere in questa direzione. È stata evidente in aula l'enorme difficoltà del Presidente e Commissario straordinario Gianni nel replicare a quella che era una richiesta che a noi sembrava semplice, cioè quella di interrompere, fare interrompere queste attività prodromiche che stanno avvenendo nei dintorni di Piombino, da parte di SNAM, senza che ancora nemmeno sia stata iniziata la conferenza dei servizi. Noi abbiamo chiesto il suo ruolo di garante e lui si è arrampicato, secondo noi, sugli specchi, dicendo che noi chiedevamo qualcosa di illegale, quando in realtà chiedevamo semplicemente che si facesse il percorso, l'iter previsto dalla legge. E soprattutto era assolutamente attinente a quello che è il piano per la transizione ecologica che abbiamo fatto oggi, perché stiamo parlando di energia, di emergenza energetica e di risorse. E stiamo parlando, proprio oggi abbiamo discusso il piano della transizione ecologica, che all'articolo 2 prevede l'utilizzo al massimo delle fonti rinnovabili, e esattamente nel cuore della costa toscana decidiamo però oggi, anzi chiediamo di interrompere la costruzione di un impianto che per 25 anni utilizzerà comunque delle fonti non rinnovabili. E quindi è assolutamente attinente a questo, la replica è che è assolutamente attinente a questo piano. L'altra osservazione che ci sentiamo di fare è che le compensazioni di cui si parlano sono quelle che Piombino attende da molti anni e non possono certo essere sbandierate adesso, perché sono qualcosa che alla popolazione gli è dovuta. e poi Gianni deve prendere una decisione e in questo momento può fare il suo percorso oppure può continuare il lavoro, può cercare di accelerare i lavori di Snam in questo momento e portare avanti quel lavoro quando sa già che il governo uscente desiderava questo. Ma il nuovo governo, per parola della leader di Fratelli Italia, Giorgia Meloni, in realtà ha già detto che vuole valutare dei posizionamenti diversi del rigassificatore. Ambiente arriva al piano regionale per la transizione ecologica. La proposta di legge è stata illustrata in aula dalla Presidente della Commissione Territorio e Ambiente, Lucia De Robertis. Sarà lo strumento strategico per le politiche regionali in materia di sviluppo sostenibile e contrasto ai cambiamenti climatici. Io sono qui dal 2015 e ancora aspetto il piano dei rifiuti. Abbiamo visto passare degli adeguamenti sul piano della qualità dell'acqua, ma dobbiamo parlare di piano della qualità dell'aria. Dobbiamo parlare del PRS, che è dal 2015 che non viene fatto, nonostante ci sia una situazione in Italia, ma anche a livello internazionale, che è totalmente cambiata anche causa Covid e purtroppo, come vediamo ora, anche per la guerra in Ucrania. Quindi abbiamo una serie di tematiche che devono essere affrontate, ma ad oggi ci si limita a fare una cornice di quello che doveva essere fatto già anni fa e che ancora i cittadini stanno aspettando. Siamo in forte ritardo su tutto in questa regione e non abbiamo ancora chiaro come si intende portare avanti tutti questi temi, soprattutto perché abbiamo non solo delle urgenze e delle esigenze, ma perché è stata fatta questo quadro di cui si parlava senza avere dei risultativi a livello nazionale. Perché non era una cosa obbligatoria, era una cosa consigliata, si poteva aspettare, magari cominciare a lavorare su tutti quei piani che i cittadini aspettano ormai da troppi anni e poi arrivare a mettere tutto insieme. La troviamo molto fumosa, la proposta di legge che è arrivata stamani, che non crediamo che andrà a cambiare al momento assolutamente niente e che non sia assolutamente risolutiva per tutti quei problemi che vediamo sul territorio. Come al solito la regione vuole mettersi alla testa della rivoluzione lessicale del paese aderendo formalmente al piano della transizione ecologica. Dovrebbe essere un piano di programmazione e di competenza del Consiglio regionale che raccoglie e in qualche modo coordina i piani dei rifiuti, della qualità dell'aria, dell'energia, della lotta all'amianto, eccetera. In realtà purtroppo ad oggi sappiamo manca il piano regionale di sviluppo che è l'atto madre della programmazione regionale, mancano i piani di settore a cominciare proprio dal piano dei rifiuti. Quindi dal nostro punto di vista abbiamo chiesto maggiore concretezza e soprattutto di conoscere i tempi di realizzazione di questo piano che dovrà essere realizzato anche tramite il contributo di un comitato nuovo tecnico scientifico di 10 membri che avevamo chiesto fosse nominato e fosse messo a supporto anche del Consiglio regionale. Questo ci è stato negato perché si ritiene invece che questo comitato scientifico debba sostenere soltanto la Giunta e quindi anche in conseguenza di questa ennesima chiusura della maggioranza noi abbiamo espresso un voto contrario. Ci riserviamo naturalmente una valutazione nel merito se e quando questo piano arriverà dovendo coordinare per il momento piani come appunto quello dei rifiuti che non esistono. Abbiamo approvato questo importante atto che è il primo passo per un coordinamento e quindi per individuare anche le persone che ci affiancheranno in questo importante lavoro di raccordo sia con il governo sia con i comuni e quindi saremo in qualche modo una cerniera sul territorio per accompagnare in tutti gli atti importanti. Mi viene in mente tutta la parte legata al PNRR in una regione che tradizionalmente storicamente ha già una grande sensibilità sulla parte ecologica proprio per la produzione stessa di energie rinnovabili e quindi non partiamo da zero. Ma con questo atto cerchiamo di mettere in maniera strutturale e programmata tutta la nostra esperienza finalmente a servizio e in rete con tutto quello che è il nuovo panorama che ci chiede l'Europa e quindi crediamo di avere tutti i numeri per poter partire e fare un buon lavoro di concerto sia con il governo che con le nostre comunità locali. Si tratta di una legge intersettoriale molto importante che inverte molti settori dall'energia all'edilizia alle infrastrutture ma non abbiamo ancora il programma di sviluppo regionale che è il documento cardine con cui inizia ogni legislatura. Dovrebbe essere stato presentato a inizio della legislatura del Presidente Gianni e non ce l'abbiamo quindi stiamo facendo delle leggi senza che ci manchi, anzi senza la struttura base che le dovrebbe supportare. Quindi come sempre navighiamo a vista anche nella transizione ecologica e persino quando siamo in ritardo. Earth Technology Expo apre alla fortezza da basso un evento gratuito che serve a fare ulteriore luce su clima e emergenza idrica. Convegni, dibattiti con al centro il tema della tecnologia, quella a cui affidarsi per cercare di attutire e gestire i cambiamenti climatici. Il futuro è già adesso. Questa Expo è, come dire, una sorta di servizio pubblico per aumentare le conoscenze in materia di tecnologie che salvano la nostra vita, che salvano gli ecosistemi, che salvano l'ambiente, che miticano il clima, che ci aiuteranno ad adattarci appunto a tutti gli impatti climatici che stiamo subendo. Siccità, ne abbiamo una tra le più dure del secolo che è durata quattro mesi alle nostre spalle. Alluvioni Lampo e abbiamo visto cosa è accaduto nelle Marche e in altre aree del Paese. Quindi alluvioni, frane, inaridimento di aree costiere, aumento del livello del mare. Insomma, tutti questi impatti possono essere intanto ben previsti ma soprattutto gestiti con un forte aumento di tecnologia a partire dal risparmio per l'acqua. Questa Expo, dicevo, è un servizio pubblico a ingresso gratuito. Abbiamo oltre 70 workshop, panel, incontri, presentazioni. Abbiamo circa 350 esperti che verranno a parlarci di tante cose. Sta piovendo sempre di più in sempre meno tempo. E questo diventa un problema per trattenere quest'acqua, rimpinguare quelle che sono appunto le nostre falde. Quindi il futuro sarà la gestione della risorsa idrica. È il problema essenziale, molto di più dell'aumento delle temperature. Perché poi l'aumento della temperatura porta anche a una maggiore evaporazione. Quindi la gestione della risorsa idrica sarà l'elemento determinante per il nostro futuro in questo Paese. È un'iniziativa importante perché pone al centro il futuro del nostro territorio. Cambiamenti climatici, gestione dell'acqua sono le sfide del presente ma anche quelle del futuro. E noi all'interno delle iniziative di Toscana 2050 abbiamo voluto inserire questo momento fondamentale non solo per il nostro territorio ma a livello globale. Ringrazio tutti coloro i quali ci hanno lavorato e ci lavoreranno in questi giorni. Le ragazze e i ragazzi più giovani ci pongono questo tema come la sfida attorno a cui ciascuno di noi deve cimentarsi. È la politica o ha la capacità di anticipare il progresso, di capire cosa sta accadendo e di prendere decisioni che vadano nella direzione giusta oppure lo subisce e rischia di non svolgere la funzione a cui è chiamata. Noi presenteremo anche in questi giorni i lavori di Toscana 2050 e chiederemo a tutti coloro i quali parteciperanno a questo importante evento di dirci quali sono secondo loro le priorità. Lo faremo attraverso nuovi metodi di partecipazione. Abbiamo qui presentato e ve lo mostro in subito quella che è un lavoro che potrà essere visionato e quindi poi presentato durante questi giorni. Insomma sarà un momento importante per Firenze, sarà un momento importante per la Toscana e sono contento che come Consiglio regionale potremo essere presenti e dare il nostro contributo. Presentazione della 36esima edizione della mostra a mercato del tartufo di Forcoli Aspettiamo tante persone anche quest'anno per la 36esima edizione della mostra del tartufo di Forcoli. Alla corte del re tartufo anche tutte le altre eccellenze locali del territorio. Il tartufo la farà da protagonista. Il territorio comunale di Palaia è un territorio ricco di questo pregiato o fungo. I nostri boschi sono percorsi in lungo e in largo dai tartufai in queste settimane per la ricerca del tartufo bianco pregiato. Sarà possibile degustare il 7, l'8 e il 9 ottobre a Forcoli alla mostra a mercato che giunge come dicevo alla sua 36esima edizione. Un'edizione importante per il paese di Forcoli. Il tema di quest'anno sarà Vespa e tartufo. È davvero un momento bello quello di poter tornare qui in presenza a raccontare una delle eccellenze del nostro territorio. Il tartufo, il tartufo di Forcoli è un segno di come nel tempo si sia sviluppato il territorio della Valdera. Trovare del buon tartufo può avvenire nei luoghi incontaminati, nei luoghi in cui rispettiamo l'ambiente ed è bello sapere che in quel territorio, nella Valdera, c'è ancora spazio per questa che è un'eccellenza e una gemma non solo toscana ma a livello nazionale e internazionale. La Valdera è un territorio fatto di tante eccellenze e io voglio ricordare come si andavano a cercare un po' di tempo fa i tartufi usando la Vespa, un'altra eccellenza del nostro territorio. Allora oggi vogliamo mandare un messaggio forte. Il messaggio è che investire nella biodiversità, investire nella gestione e la manutenzione del territorio permette di esportare nel mondo un'eccellenza come il tartufo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!